Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi unboxeremo assieme questo mega pacco che mi è stato inviato da Universal Picture Home Entertainment. E alla fine del video ci sarà anche una bellissima sorpresa per voi perché faremo anche un giveaway dove vi regaleremo delle cose davvero fighissime. Ma intanto bando alle ciance e andiamo subito a scoprire cosa mi hanno inviato. Vi do un piccolo spoiler, ragazzi, si parla di Jurassic World. Come vedete qui accanto a me abbiamo il Blu-ray 4K del primo film. Ma adesso sono super curioso, aspetto da due giorni e quindi vediamo cosa contiene questo mega pacco. Andiamo subito a tagliare il nostro scotch da questa parte e da quest'altra parte. Ok, questa scatola è davvero fighissima perché ha il coperchio e andiamo finalmente a sbirciare il contenuto. Ok. E ragazzi, la prima cosa fighissima che vedo già qui in cima a questa pila di roba è l'edizione speciale Blu-ray in Steelbook di Jurassic World, il regno distrutto. Ragazzi, questa edizione è davvero molto molto bella, adesso la andremo ad aprire assieme, ma vi segnalo che ne sono uscite anche tante altre, come ad esempio la classica DVD, ma anche la classica edizione Blu-ray in Amarei. E ancora è uscita anche una fantastica edizione 4K e un'altra edizione con due mini Funko Pop di Jurassic World in edizione speciale. Quindi, chi collezionasse i Funko Pop classici di Jurassic World, ragazzi, non potete perdervi assolutamente anche l'edizione speciale con il mini B-Pack in allegato. Davvero molto molto carina e credo proprio che quello lo prenderò anch'io. Naturalmente trovate tutti i link di tutti questi prodotti sotto in info box. Ma andiamo a vedere meglio come è stata fatta questa edizione Steelbook, che è tutta attaccata e adesso dovrò staccare gli adesivi. Eccola qui in tutto il suo splendore, è davvero bellissima. Guardate quanto è bello questo effetto satinato sulla Steelbook e anche questo effetto HDR che Universal ha scelto per questa copertina. A me piace un sacco, o un debole per le Steelbook, lo sapete, ma in questo caso è davvero molto molto bella. Mi piace un sacco anche l'immagine che hanno scelto perché va a riassumere un po' tutto il senso del film. Visto che da questa parte, nella faccia frontale, troviamo il nostro T-Rex, che ormai è il simbolo indiscusso di tutta la saga di Jurassic World slash Jurassic Park. E abbiamo i nostri protagonisti qui, che si riparano dietro la macchinetta a bolla che serviva per girovagare nel parco nel primo film. E invece sul retro della copertina troviamo la stessa scena, però post-eruzione. Ed ecco che qui troviamo la stessa macchina a bolla, abbandonata, senza i vetri ormai andati in frantumi, e lo scheletro del dinosauro che invece sul fronte si trova sotto le zampe del T-Rex. Perché questo film è molto più etico, tra virgolette, rispetto al primo. Dove nel primo non si sono fatti scrupoli per ricreare un nuovo parco e riportare in vita nuovi dinosauri, addirittura creandone uno nuovo, l'Indominus Rex, che poi ha combinato tutto quello che sappiamo, qui invece tutto parte da una domanda molto più etica. Cioè se salvare o meno tutti i dinosauri rimasti intrappolati sull'isola, visto che il vulcano presente su quest'isola sta per eruttare e probabilmente ucciderà ogni forma di vita presente. Quindi tutto nasce da qui e poi naturalmente andrà ad evolvere verso altre strade, fino a sfociare in un finale che a me ha lasciato abbastanza sbalordito, che non vado qui a riportare per non fare spoiler a chi non avesse ancora visto il film, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare. E invece fatemi sapere sotto nei commenti, secondo voi, come continuerà un eventuale Jurassic World 3, visto che comunque gli scenari che si prospettano sono molteplici e, devo dire, non sono per niente positivi, secondo me, per quanto riguarda l'umanità. Ma sono molto curioso di sapere come potrà evolvere la storia, secondo voi, e magari vi dirò come potrebbe continuare, secondo me, sempre sotto nei commenti. Ma detto questo, vediamo anche all'interno. Abbiamo il nostro Blu-ray e poi abbiamo anche questa cartolina con un gioco da fare col nostro smartphone che si chiama Interagisci con Blu. Quindi probabilmente si tratta di realtà virtuale, anche perché sul retro c'è un codice da scansionare con la fotocamera del telefono. Quindi probabilmente si tratta di un gioco di realtà aumentata con Blu, che sembra davvero molto molto figo. Detto questo, mettiamo questo qui, così, accanto al primo Jurassic World e vediamo cosa c'è ancora da scoprire all'interno di questo pacco. Ragazzi, questo già mi piace ancora di più perché si tratta del borsone di Jurassic World. Ed ecco qui il nostro borsone, ragazzi. Mi piace un sacco il tessuto, è davvero molto importante, molto spesso. Sembra davvero un borsone resistente. Qui davanti ha il logo fighissimo di Jurassic World, tutto cuscito e non stampato, quasi come se fosse del merchandising che arriva direttamente dal parco divertimenti. E poi ha le sue maniglie, i suoi braccioli, non ho idea di come si chiamino, e anche la tracolla che si può staccare. Io credo che la utilizzerò sicuramente per i miei viaggi come bagaglio a mano, la misura mi sembra perfetta. E ragazzi, piccolo spoiler, il giveaway ha a che fare con questo borsone. Ma ne parliamo tra poco perché c'è ancora una cosa da tirare fuori da questa scatola e ragazzi, sto per tornare bambino. Si tratta di un Indominus Rex della Hasbro. Ragazzi, è davvero una figata. I miei genitori, quando ero piccolo, non mi avrebbero mai comprato una cosa del genere. E ragazzi, devo dire che è una figata pazzesca. Grazie mille a Universal Picture Home Entertainment per avermi fatto vivere il Natale in anticipo quest'anno. Davvero una figata questo Indominus Rex. Ma ragazzi, so benissimo che state tutti morendo dalla voglia di saperne di più riguardo al giveaway, quindi eccomi qui pronto a svelarvi tutto. Ragazzi, a partire da oggi è aperto il giveaway in collaborazione con Universal Picture Home Entertainment dove avrete la possibilità di vincere ben quattro di questi borsoni di Jurassic World. Ebbene sì, quattro borsoni, tutti per voi. E per vincere è davvero semplicissimo. Cosa dovrete fare? Intanto dovrete essere iscritti al mio canale, ma in linea di massima, se state guardando questo video, lo siete già. Secondo requisito per partecipare, quello di seguire su Instagram sia me che Universal Picture Home Entertainment. Quindi ragazzi, trovate i link in infobox semplicissimi, solo da cliccare e seguire su Instagram. Fatte queste due cose, cosa fare attivamente per vincere il borsone? Semplicissimo. Dovrete pubblicare su Instagram una storia e taggare me in questa storia in modo che io possa vederla e scegliere le quattro più carine, più divertenti, che più mi colpiranno, alle quali far vincere i borsoni. Cosa dovrete fare in queste storie? Semplicemente pubblicare qualcosa che sia un video, che sia una foto, che sia un testo, quello che vi pare, a tema giurassico. Quindi devono essere presenti i dinosauri. Può essere un vostro ricordo legato alla saga di Jurassic Park o Jurassic World, può essere un oggetto, un oggetto da collezione che avete magari in casa, un film, il primo DVD di Jurassic Park, il libro, ragazzi, qualsiasi cosa, fatemi vedere cosa avete in casa di giurassico o comunque un vostro ricordo legato a questa saga. Fatto questo, ragazzi, non vi resta che aspettare ed io domenica 28 pubblicherò sulle mie Instagram Stories i quattro vincitori, gli screen delle quattro storie vincitrici e provvederò a contattarvi tutti uno per uno così che poi Universal potrà inviarvi direttamente a casa uno dei borsoni di Jurassic World. Quindi, semplicissimo, iscrizione sul canale, seguite me e Universal su Instagram e poi pubblicate una storia giurassica. Stop! Tutto qui, ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Io ringrazio ancora tantissimo Universal Picture Home Entertainment per avermi inviato questo pacco fantastico e avermi fatto vivere Natale in anticipo. E, ragazzi, a questo punto, aperto il contest, ci vediamo su Instagram in diretta domenica 28 ottobre. Detto ciò, ragazzi, do un taglio alle mie ciance e noi ci rivediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!